Grazie che guarisce Nei miei oltre 40 anni di ministero è che la vita non è facile, la vita è piena di ostacoli, sfide, tutti attraversano ferite, difficoltà, momenti difficili, tutti portiamo delle cicatrici emotive invisibili a molti ma allo stesso modo reali a noi. Ho anche imparato che una delle cause più profonde che fa male è il rifiuto, quando siamo rigettati, quando siamo messi da parte, tutti noi lo affrontiamo in momenti diversi della nostra vita. Il rifiuto che potrà avvenire da parte dei genitori, da parte dei coetanei, il rifiuto dei partners, da un ex coniuge, da parte di un cosiddetto amico. A volte le ferite che avvengono attraverso il rifiuto rimangono nascoste in noi per tanti anni. Voglio che guardiamo alla grazia guaritrice di Dio e come Dio guarisce le ferite nascoste nella nostra vita. Abbiamo già esaminato altre settimane la grazia che salva, la grazia che ci sostiene, la grazia e il senso di colpa. Ma oggi voglio che guardiamo alla grazia guaritrice, che guarisce. La Bibbia dice nel Salmo 147, versetto 3 Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Meraviglioso versetto e promessa del Signore. Dio guarisce chi ha il cuore spezzato. Hai tu il cuore spezzato oggi? Sono avvenute nelle cose della tua vita che sembra che nessuno possa guarire. Dio può guarirti oggi. In che modo Dio guarisce un cuore spezzato? In che modo Dio guarisce le ferite che sono nascoste nell'intimo della nostra vita? Dio lo fa cambiando il nostro modo di pensare, dandoci pensieri sani, modificando come vediamo Dio, modificando come vediamo il dolore, modificando come vediamo noi stessi, modificando come vediamo il mondo attorno di noi. Romani 12, capitolo 12, versetto 2 dice Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Cari, se vuoi cambiare la tua vita, se vuoi superare il tuo dolore, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Se ci vediamo come un fallito, saremo più inclini a fallire nella nostra vita. Se ci vediamo come una vittima, saremo inclini a metterci in situazioni in cui diventiamo delle vittime, del continuo. La Bibbia insegna il principio che le nostre credenze determinano i nostri comportamenti, cioè quello che crediamo nella nostra mente diventerà quello che faremo con la nostra vita. Il modo in cui pensiamo determina il modo in cui agiamo. Il problema è che la maggior parte di noi ha un sistema di credenze sbagliate. Abbiamo raccolto tutti i tipi di credenze crescendo. Se guardiamo ad uno specchio distorto, otteniamo un'immagine distorta di noi stessi. A volte ci sono quegli specchi che ci fanno sembrare più snelli e tutti siamo contenti di quegli specchi lì. Ma ci sono anche altri specchi che ci fanno sembrare più grassi. Non siamo contenti di quelli. Vogliamo uno specchio che ci fa sembrare quello che dovremmo essere. Crescendo, alcuni degli adulti intorno alla nostra vita erano come degli specchi distorti. Ci hanno fatto vedere le cose sbagliate di noi stessi e tendevamo ad accettare qualsiasi cosa dicessero come la verità. Queste cose sono negative e ci hanno marcato mentre crescevamo. Per esempio abbiamo sentito crescendo persone che ci hanno detto non sei buono a nulla, non sai fare niente di buono, sei un fallito, ma tu sei uno scemo. Dio ti punirà per certo, hai sbagliato troppo. E cari abbiamo sentito tante di queste cose negative che un po' alla volta ci abbiamo creduto e poi abbiamo agito secondo quello che le persone ci hanno detto di sbagliato. Molte delle cose che abbiamo sofferto e sperimentato crescendo le abbiamo nascoste nel nostro intimo della nostra mente e queste hanno causato ferite e dolori, ci hanno portato ad agire negativamente. voglio che guardiamo a come Dio cambia la nostra mente e con la sua grazia ci aiuta non solo a vederlo sotto una nuova luce ma a vedere noi stessi come Lui vede a noi. Voglio che guardiamo alla visione che Dio ha per noi. Dio ci dirà sempre la verità. Dio è perfetto. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice Dio di noi? A causa della grazia di Dio la Bibbia dice che noi siamo accettati nel suo figliolo. È per grazia che Dio ci accetta come siamo. A tutti noi piace essere accettati e voluti. Potremmo non rendercene conto ma la spinta ad essere accettati è la motivazione alla base di molte delle cose che facciamo. Il nostro desiderio di essere accettati influenza il modo in cui ci vestiamo, il tipo di auto che guidiamo, il tipo di casa in cui viviamo, la carriera che scegliamo e molte altre cose. A volte possiamo anche pensare se potessi essere perfetto allora tutti mi amerebbero, allora tutti mi accetterebbero, sarei voluto da tutti. Ma cari, questo non è vero, anche se fossimo perfetti non tutti ci accetteranno. La Bibbia dice che Gesù, il vero perfetto, eppure fu disprezzato, respinto dagli uomini, è venuto ai suoi, ma i suoi non lo hanno accettato. Ma poi la Bibbia dice ma tutti coloro che lo ricevono, egli dà loro l'autorità di diventare figli di Dio. Ma Gesù fu respinto dal suo stesso popolo. Romani 15,7 dice Romani 15,7 Perciò accoglietevi gli uni agli altri, come anche Cristo vi ha accolti, per la gloria di Dio. Cari, per grazia siamo stati accolti. L'accettazione di Cristo si basa sulla grazia e non su tutto ciò che dobbiamo fare con le nostre opere, con le nostre forze. Cari, non dobbiamo fare niente per essere accettati da Dio, solamente credere nel suo figliuolo Cristo Gesù. Primo Pietro 2,9 dice Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Cari, siamo una stirpe eletta, accettati, benvoluti, raccolti da Dio. Conosci la brutta sensazione di quando diciamo sono l'ultimo, io sono il rifiuto, tutti gli altri stanno a essere scelti tranne me. Vi ricordate da bambini giocavamo con gruppi di persone e i due capitani si sceglievano la squadra e a volte non ci sceglievano per primo a noi e ci sentivamo rigettati. Ma cari, la Bibbia dice che sei scelto da Dio, siete accettati dalla sua grazia, non perché ce lo meritiamo, ma a causa della sua grazia verso di noi. Salmo 27, versetto 10, bellissimo verso. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Dio dice io ti accetto. Se Dio mi accetta e tu non mi accetti, questo è il tuo problema. Il secondo punto riguardo quello che Dio dice di noi, noi abbiamo valore, per la grazia di Dio portiamo un grande valore, siamo preziosi, valiamo qualcosa. Quanto pensi di valere? Non sto parlando del tuo patrimonio netto, sto parlando della tua autostima, il patrimonio netto, l'autostima non sono uguali. Il tuo valore non ha alcuna relazione con i tuoi oggetti di valore. Gesù disse che la vita di una persona non consiste nell'abbondanza di cose che possiede. Sto parlando di quanto sei prezioso come persona. Come giudichiamo il valore di una persona? Come giudichi tu il valore di qualsiasi cosa? Due cose determinano il valore nella vita. In primo luogo, a chi appartiene determina il valore di qualcosa. A chi appartiene quella cosa? Sappiamo tutti che qualcosa è di proprietà, di valore quando appartiene a una celebrità, quando appartiene a qualcuno di importanza, allora quello che quella persona di importanza ha diventa di grande valore. Ad esempio, si parla tanto del re Elvis Presley e se tu avresti un'automobile di Elvis Presley oggi varrebbe un sacco di soldi. Non perché quell'automobile è di grande valore, ma perché appartiene. Che ne dici di un paio di scarpe da calcio che appartenevano al grande giocatore Pelé o Maradona credo che sarebbero delle scarpe di grandissimo valore oggi. Il fatto è che il proprietario di qualcosa aggiunge valore a qualcosa che normalmente è solo comune. Fammi farti la domanda a te. A chi appartieni tu? A chi appartieni tu? E la Bibbia dice questo in 1 Giovanni 4,4 Voi siete da Dio figlioli e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Questo versetto inizia con Voi siete da Dio. Immagina il nostro valore. Cari che ascoltate tu appartieni a Dio quando dai la tua vita a Cristo Gesù tu appartieni a Dio sei di grande valore e anche come creatura sei di grande valore perché sei stato creato da Dio per la sua gloria sei stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza quando veniamo a Cristo e diciamo Gesù Cristo accetto il tuo dono della salvezza accetto il dono della tua grazia all'improvviso ora apparteniamo a Dio da creature di Dio diventiamo figli di Dio la seconda cosa che determina il valore è ciò che qualcuno è disposto a pagare per quella cosa quella casa quella automobile vale qualunque cosa il mercato pagherà per questo è la domanda che ti voglio fare amico amico fratello sorella in Cristo quanto è stato pagato per te chi ha dato tantissimo valore a te pagando un grande prezzo per la tua vita prima corinzi 7 23 la Bibbia dice voi siete stati riscattati a caro prezzo non diventate schiavi degli uomini cari Dio ci ha dato il suo figliuolo come sacrificio sulla croce perché Dio ha detto tu vali un sacco e perché tu vali così tanto io do il mio meglio Dio disse voi siete così preziosi che io darò mio figlio a morire per voi quando la gente ti dice sei inutile non arriverai a molto credo che si sbagliano di grosso Gesù non è morto per la spazzatura Gesù è morto per qualche cosa di grande valore tu hai grande valore perché Gesù ha dato la sua vita per te Isaia 43 4 perché tu sei prezioso ai miei occhi sei stimato io ti amo io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita quindi cari siamo accettati valiamo un sacco e in terzo luogo a causa della grazia guaritrice di Dio siamo amati da Dio mi piace questo versetto in Isaia 54 10 Isaia 54 10 anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi l'amore mio non si allontanerà da te né il mio patto di pace sarà rimosso dice il Signore che ha piedati te cari l'amore di Dio per noi non finirà mai ci sono due caratteristiche che rendono l'amore di Dio diverso dall'amore umano l'amore di Dio è coerente non finirà mai numero due l'amore di Dio è incondizionato non si basa sulle nostre prestazioni non si basa sulle nostre opere è per grazia di Dio che siamo amati e ci mettiamo sempre nei guai quando dubitiamo dell'amore di Dio allora Dio dice che in Cristo Gesù sono accettato in Cristo Gesù ho grande valore in Cristo Gesù per la grazia guaritrice sono amato e per ultimo per la grazia guaritrice di Dio siamo perdonati chissà quante volte parliamo del perdono perché tanti non si sentono perdonati cari non ha niente a che fare con quello che senti ha a che fare con quello che la Bibbia dice Isaia 43,25 io io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati cari Dio non porta mai rancore non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù Efesini 1,4 bellissime parole dall'Apostolo Paolo in lui in Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue e poi dice il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza cari prima ancora che nascessimo Dio conosceva ogni cosa stupida folle che noi avremmo fatto e ci ha ancora creati e ci ama ancora e si preoccupa un sacco di noi quindi Dio dice che non non sono solo accettato prezioso amabile perdonabile Dio dice che in Cristo a motivo della sua grazia sono dotato abile idoneo Dio ci ha dato un dono Filippesi 4,13 io posso ogni cosa in colui che mi fortifica bellissime parole lo voglio leggere di nuovo io posso ogni cosa secondo le abilità che Dio mi ha dato posso ogni cosa in colui che mi fortifica la maggior parte delle persone nel nostro mondo soffre di inferiorità di insicurezza questo perché Dio non è il numero uno nella loro vita prego che Dio diventi il numero uno nella tua vita primo Pietro 2,10 dice voi che prima non eravate un popolo ora siete il popolo di Dio voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia Romani 15,13 Romani 15,13 ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia di ogni pace nella fede affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo cari Dio vuol riempire la tua vita con lo splendore della sua speranza per la grazia guaritrice di Dio sono accettato ho grande valore sono amato sono perdonato e sono abilitato da Dio per fare grandi cose nel suo nome per la sua gloria e Dio benedica questa bellissima meditazione ai nostri cuori amè a la sua ragazza a